What? Hey! Attenzione, eh! Hey, let's go su Yo-Kai Watch, True Rare and Measure! Vai, fare un po' di volantinaggio! L'incredibile scoperta del mistero sotterraneo... Mistero sotterraneo? Che c'è al mistero sotterraneo? A quanto pare l'italiano ha un incarico per Alius, ma, amica mia, le missioni chiave? Bene, le faremo la prossima volta! Ho da fare con Lonk! Lonk, amore mio, eccomi qua! Ma prima di andare a parlare con White degli zombie... Vai, ruota della sfortuna! 2 Tanto non ho monete... Avrei usato quelle di gioco... What?! Ehi! Ma attenzione, eh! Usapion! Non sono un alieno, ma uno Yo-Kai! Hai capito la slot con le monete di gioco! Che poi si chiama Major Usapion, non è Usapion normale... Ehm, moneta... Oh! La fortuna ogni tanto mi arride! È schiera, ma è a livello 1! È sfera grande! È Usapion! Beh! Eh, amici miei, ci si riprova! Ci si riprova, amici miei, ci si riprova! Eccolo qua! Ma è Wispocrate! Attenzione! È Wispocrate, sì! Mi pare che sia lui! Eccolo qua! Ah, no! Lady Colfint! Ma non è vero, è Wispocrate! Sarà forte come l'altro? Perché l'altro era imbattibile! Però potrebbe essere fattibile! Ehi! Sergente Quadro, dai! Mena! Mena bello! E dai! Let's go! Eccolo qua! Fatto! Eccoli i punti che cadono! Oh, Sireni, a posto! 6200 punti! Wow! Probabilmente l'altro non potevo batterlo perché era proprio uno zombie! Bob! Ma guarda un po', la signorina che abbiamo incontrato al molo e che ho tagliato dal video perché non è importante per ora! Oh, Lonk! Non ti dimentica che c'è Katie a casa che ti aspetta, eh! Stai buono! Wyatt, abbiamo trovato degli zombie la notte scorsa! Non so se li ho sognati o se erano veri, ma ci sono! Quindi per sconfiggerli andremo allo spettro market stasera! Non so quale sia la correlazione, ma ok! Siamo davanti allo spettro market e la porta è aperta! Cioè nessuno ha chiuso... Nessuno ha chiuso le porte scorrevoli, ma scusami! Ma dovrebbe essere la norma chiudere le porte scorrevoli! E troviamo della robaccia sul pavimento! Un segreto da super zombie liquido verde! Eh! Potrebbe essere vomito, potrebbe essere altro! Evitiamo battutacce! Sì, sono il primo a farne, ma ok! Impronte verdi! Impronte! Una strigiata di... Di vomito verde! Che un cliente abbia avuto un incidente? Beh! E nessuno ci ha pulito! Eh sì, c'era un suono alquanto sgradevole! Cos'era? E non era umano! Come fai a definire un suono umano o no? Ah, gli zombie che vogliono i cervelli! Eccoli, va! Ah, quello è senza corpo, quindi striscia! C'ha ragione, poverino! Se proprio devo essere sincero, a me spaventa di più il coniglio che non gli zombie! Non gli ha un coniglio parlato, eh certo! Ah, però conosci il segreto degli zombie! Ah, ci dà la chiave per entrare nella cella frigorifera? In cambio della chiave vuole che prendiamo qualcosa da mangiare! Che poi non sono zombie, ma sono yokai! E' il koala! Non mi ricordo... Komala? Com'è che si chiamava? Quello è il pokemon! Comunque, prendiamo il carrellame! Eccola! Solo col carrello posso far spesa! Eccole qua, signor Ian Coniglio! Le ho portate! Va bene ora? Come non sono abbastanza? Ma perché? Vatti a prendere solo allora! Chi è? Ah, lui! Arrivederla! Ok, a posto caro! Ora anche il filetto e l'avocado! E' finita! No, non l'ho conosciuto il super manager e non ci tengo a conoscerlo! Se n'è andato, lascialo stare lì! Vuole anche una rivista collabora con la Maxi e bambola di fuga! Preso tutto quanto anche stavolta! Ora è fatta! Giusto? Oh, grazie! Oh no! Grazie! Infatti me ne vado! Che bello questo gioco! Tutti quanti con queste voci strane! Come piace ai bambini, giusto? Scusate! Eh, possiamo? Grazie! E vabbè, chi è il labirinto? Mamma, neanche al Conad è così intricato il percorso, ehi! Ma scherziamo? No, vai giù, vai giù! Bravo! Però quello corre più... Eh, vabbè! Mettiamo le ali! Let's gooo! Che fastidioso! La cosa bella è che il koala ha paura di me... Ah, ma questo è Malazanz! Malazanz ha paura di me? Incredibile! Mi sono ricordato che uno... Che questo yokai si chiama Malazanz! Domani piove! E infatti ho sbagliato e si chiama Prudor! Infatti c'è un sole che spacca le pietre! Ma si è bloccato Malazanz! Guarda, si è bloccato! Guardalo! Citrullo! Ah no, ok! Però... Ha paura di me comunque! Ora lo so! La tesola imboscata! Dice, ma mi giro le facce sorpresone! Invece no! Allora, andiamo un po'... Oh, c'è un bel po' di carne da lavorare qui! Il mio macellaio ne sarebbe contento! Siamo nella cella figurifera! Ma è proprio quello che mangiano gli zombie! Gli zombie mangiano le persone! Tranquillo G-Bunner, mangiano cervelli! Quindi sei al sicuro! Ma in realtà anche Whisper è al sicuro! Devi vederla! Ci ha messi all'angolo! E allora combattiamo! Intrusi! Sarete la portata principale per i miei clienti! Veramente vorrei evitare di diventare carne da mangiare! Aspetta però! Tu intendi clienti zombie o clienti umani? Perché sarebbe roba da The Market! In The Market! Tra l'altro filmaccio... Però... Ha il suo perché! Vai Sergente Quadro! Al lavoro! Infatti sto lavorando! Magari! Oddio! C'è la signora! Signora da libero! Aspetta! Grazie signora! Ah hanno sbagliato! Giustamente! Aspetti signora che da libero! No fermati tu! Ti voglio bene Acquio! Ma no! Non sei tu! Mio Dio! Fermi tutti! Ah no! Ha sprecato la cosa lì! La ciambellina! Gira questo giroscopio pazzo! Mai! Che fatica col mouse ragazzi! Sembra facile ma non è! Proposchiaffo! Ma come è mancato! Ah però lo becchiamo così eh! Chi è? Cos'era quello? Pazzito! Grazie signora! Tu voglio bene! Mamma mia! Zombie distrutto! L'ha smontato con un pugno! Bella racconta! È bella sta musica! Cioè non puoi odiarlo con Super Manager! È bellissima la lotta contro Super Manager! Come fai ad odiarla? Anche la carne! Anche la carne! Anche la carne! La carne! Prendilo! Vai! Qui! No! Sergente Quadro! Tu mi devi fai... Ah l'abbiamo fregato! Attaccate! Attaccate amici! Attaccate! Attaccate amici! Attaccate! Attaccate ragazzi! Guardi ora che è debole! Grandi! Bravi! Vabbè sì! Se avessi l'Energy Max normale sì! Però non ce l'ho! Cioè se ci sarebbe proprio schiaffo effettivamente... Ma perché devo girare? Mannaggia! Se avessi uno schermo touch lo userei ma non ce l'ho! Metto qui con la mano a girare! Dai! Dai! Fai male! Ok! Spostati in tempo! Per fortuna che ho uno di recupero! Ringrazio quel momento in cui ho detto mettiamo la pigrizia degli yokai random! Tutti a uno me l'ha messi! Ah! Non faceva niente lui! È impedito! Vabbè se non c'ha voglia non c'ha voglia! Che io devo fare? Purtroppo! Vai leo fuoco! Tu sì che puoi farcela! Un'Energy Max che mena! Let's go! Quanto mena leo fuoco! Mio! Cielo! Santissimo! Dai! Che offerte speciali hai? Fammi un po' vedere! Ok! Poi lo meniamo eh! Fammi un po' vedere! Pollo a metà prezzo! Ah no! I zombie! No grazie! Preferivo pollo che ne mangio un bel po' di pollo! Fa bene! È magro! Pochissime calorie! Peum! 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 Su! Let's go! E sparagli sta pistola blaster! E comunque supermanager mio fratello! Li voglio bene! È un bellissimo yokai! La squadra seppur con l'aiuto di Aius ha preso una bella forma e non mi dispiacerebbe arrivarci a fine gioco! Certo magari cambiando un paio di yokai ma ci penseremo più in là! È inarrestabile! Beh non ci resta altro che continuare a colpirlo e magari aprirgli le bude... No! Cosa brutta! Da dimmi trego stavo solo facendo il mio lavoro! Ah quindi puoi parlare come noi? E dovevo farlo per non permettere che gli altri umani disturbassero i miei clienti! Ah perché alcuni della rivista Facilet si sono infiltrati nel... nel supermercato E hanno visto che c'erano gli zombie che sono dei clienti di supermanager! Ma penso un po'! Aspetta! Avete rinunciato alla notte zombie! Questo non me lo ricordavo davvero! Ma se voi avete rinunciato alla notte zombie allora perché io li ho incontrati? Vabbè comunque sia noi manterremo il segreto non diremo niente degli zombie e quant'altro quindi... Fai pure il tuo lavoro! Beh direi che questa è fatta allora! Bella sta boss fight! Una delle... forse la più bella è tutto il gioco insieme a quella... Di... Bucketton! Nah! Accidenti! Blatter ti prego leggimi i Wi-Files! Oh sì! Bravo! Baccia lì con i Wi-Files! Se non vuoi parlare con gli Wi-Files sei inquietante! Da un'occhiata Sally! Vedrai! Costruiamo una zattera per navigare il fiume? Sì! Bella idea! Ci sto! Andiamo a caccia di artefatti nelle rovine! Artefatti? Artefatti sì! Capitolo quattro! Non svegliare l'artefatto che dormi! Mi è ognifico! Sembra alquanto strano, non trovi? Mai strano quanto te, Blatter! Eh sì! Andiamo a dormire! Che dire! Una delle boss fight più divertenti che io ricordassi su Yo-Kai Watch 3! Ad ogni modo vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Yo-Kai Watch 3 e ci vediamo domani con un nuovo video! Ciao!